Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va spero che state bene che stai trascorrendo una splendida giornata e mi scuso unesima volta per la location e per l'illuminazione non proprio ottimale però negli ultimi giorni sto più fuori casa che a casa e quindi mi devo adattare in questo video andremo a parlare del fil rouge che si è estaurato tra Milan e Torino in quanto i Granata sarebbero disposti a versare una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro al Milan per garantirsi il titolo definitivo di Pobega dall'altra parte però il Milan non accetterebbe questa proposta ma vorrebbe riportare il giocatore a Milano, notizia riportata sia a tuttomercato.com che sulle colonne di Tutto Sport il tutto poi si va a legare a un altro nome del quale parleremo nel proseguo del video prima però di iniziare di andare all'occhio a questione mi raccomando lasciate un like al video iscrivete al canale se l'avete ancora fatto e attivate la campanellina grigia delle notifiche per ricevere tutte le news dal canale mi raccomando supportate con tanti like le mie due serie gameplay su Football Manager 2022 e su FIFA 2022 e cliccate anche sul link qui sotto in descrizione che è diciamo correlato al mio secondo canale di E-Music dove appunto parlo di musica però torniamo a noi appunto il Torino sarebbe pronto a investire questa cifra ma il Milan direbbe di no, Pobega andrebbe ad ora a sostituire che sì per il quale insomma il rinnovo sembra ancora in alto mare quindi l'italiano andrebbe a sostituire il centrocampista ex Atalanta il tutto poi si va a legare da un altro filo rosso al nome di Bremer difeso centrale brasiliano classe 97 che vede il suo contatto in scadenza con i Granata in data 30 giugno 2023 ed è entrato nell'orbita di Milan i rossonei stanno monitorando anche altri profili come Botman e Milenkovi ci vi hanno parlato in un altro video però ecco Bremer è in questa rosa Bremer potrebbe partire a gennaio? Non lo so potrebbe partire in estate? Non lo so certo che se non vi sarà un rinnovo diciamo Lampo o comunque il Torino non dovesse fare quel salto ulteriore a livello di reputazione e comunque di prestazioni Bremer potrebbe lasciare appunto i Granata quindi ipotizzando un Bremer al Milan per un certo costo sicuramente più si va avanti al tempo più il potere contattuale del Torino diminuisce perché se ora può chiedere 20 milioni di euro una volta che il giocatore entra nell'ultimo anno di contratto giocoforza dovrebbe insomma chiedere di meno quindi magari sui 14, sui 15 in più potrebbero nascere altre dinamiche come magari il giocatore che vuole uno sconto sul prezzo collegandosi alle sue aspettative, alle sue ambizioni la gente che può dire ok mi chiedi di meno però magari posso chiedere di più al club acquirente per il ragazzo, insomma le dinamiche sono veramente tante sicuro è però che un nome che per quanto riguarda il Torino del Milan può essere appetibile è Krunic quindi ipotizziamo questa cosa Pobega torna al Milan Bremer magari accordandosi verbalmente con il Milan possono appunto già contrattare una sorta di cifra però magari il Torino si può prendere una prelazione per quanto riguarda Krunic quindi Krunic andrebbe a sostituire Pobega per la prossima stagione un giocatore che occupa insomma la quinta posizione nei 5 centrocampisti centrali che ha il Milan che avrebbe davanti insomma eventualmente Pobega Tonali Benazer e Baccaio Co quindi ecco un Krunic potrebbe eventualmente appunto andare al Torino magari presto Bennale con un obbligo di riscatto basso insomma potrebbe essere un'opzione un nome che però potrebbe ritornare in ottica Torino per la situazione eventuale di Bremer è Günter difensore centrale del Verona che già era stato accostato al Torino e questo perché? perché Juric già l'ha allenato e Juric premeva tanto per acquistare questo giocatore poi non è andato a buon fine però è un nome che potrebbe tornare caldo in caso di cessione di Bremer ora dagli ambienti Granata non trapela nulla nessuna conferma o nessuna smentita ovviamente nessuna voce vi è riguardo Günter magari non sappiamo però è lo stesso Bremer che può aver detto guarda ti sto ancora per questi sei mesi poi magari vado via qualora mai Bremer andasse via non rinnovasse però potrebbe essere un'opzione un utente anzi un iscritto mi aveva scritto sotto un commento in un commento in uno dei miei ultimi video beh io chiedere Gabbia Gabbia non ce lo vedrei come titolare al Torino lo vedo meglio insomma con una riserva al Milan ma il Torino se deve fare lo step non gli serve Gabbia gli serve uno che bene o male può rispecchiare un po' le caratteristiche di Bremer che appunto potrebbe essere Günter l'Elas Verona se ne priverebbe non lo so perché comunque un altro facciamo fantamercato vanno a cedere Gunter e magari si potrebbero andare a riprendere in prestito l'Ovato che ad ora fa panchina l'Atalanta e che è già stato a Verona e che è già esploso a Verona però ripeto tornando al discorso Torino-Milan secondo me il discorso di Bremer al Milan con Pobega che torna al Milan con un Krunic eventualmente che andrebbe al Torino e il Torino che investirebbe i soldi di Bremer magari prendendosi un Gunter potrebbe essere uno scenario secondo me quanto meno verosimile mi raccomando fatemi sapere qui sotto che ne pensate voi tifosi del Milan e anche voi tifosi del Torino mi raccomando lasciate un like se i video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campellina supportatemi ve ne renderò grazia di tutti i progetti appunto che ho avviato quindi le serie gameplay e il secondo canale di E-Music vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi